Prende corpo la nuova San Giovannese in vista della stagione 2016-2017. Oltre a buono sul piede di partenza c'è anche Vezzi che ha firmato per il Givizzano e mentre resta in stand-by la conferma di Nocentini pare invece praticamente raggiunto l'accordo con i vari Mugelli, Pezzati, Camillucci e Regoli che dunque assieme al già riscattato portiere Bettoni costituiranno l'ideale proseguimento di coloro che hanno giocato con maggiore continuità nella scorsa stagione. A questi dovrebbe aggiungersi anche Romanelli, l'attaccante che sta svolgendo la riabilitazione dopo la ricostruzione del legamento crociato è stato chiaro nelle scorse settimane. O il resto a San Giovanni o smetto con il calcio giocato anche per questioni lavorativi. Le conferme però che stanno crescendo potrebbero averlo convinto a continuare a calcare il rettangolo verde. Martedì prossimo 5 luglio presentazione ufficiale intanto del nuovo allenatore Ciro Ginestra. È possibile pensare che quell'occasione sia anche la prima uscita per l'intera nuova dirigenza al Gran Completo compreso il patron Giuseppe Perpignano.